1.500 persone hanno marciato per le strade della città di Khabarovsk, nella Russia estremo orientale, per il settimo fine settimana consecutivo di proteste, dopo l'arresto a inizio luglio del governatore della regione. Sergei Furga, l'accusato di essere il mandante di alcuni omicidi risalenti a 15 anni fa, nega tutte le accuse. Per i suoi sostenitori, la sua detenzione ha un movente politico. Questo è il sostegno al nostro governatore, non lo abbandoneremo mai, è stata una nostra scelta e saremo con lui fino alla fine. Protesto ogni sabato, non posso protestare in settimana, dice una pensionata. Protesto per la libertà dei miei figli e dei miei nipoti. Voglio la verità. Durante la manifestazione di questo sabato sono spuntati anche tanti striscioni di incoraggiamento all'oppositore Alexei Navalny, attualmente ricoverato a Berlino dopo il presunto avvelenamento. Non sono mancati messaggi di sostegno al popolo bielorusso che scende in piazza da giorni per chiedere nuove elezioni e il ripristino della vecchia Costituzione.